Buon pomeriggio, ben trovati con Moversi in Toscana, Mauro Ciutini in studio. In A1 ricordo fino alle 18, è chiuso il tratto tra l'allacciamento con l'A1 direttissima e Rioveggio in direzione Bologna, ci sono lavori di manutenzione e sempre in A1 c'è un veicolo fermo nel tratto compreso tra Arezzo e Valdarno in direzione di Firenze. Ci spostiamo sulla Firenze, Pisa Livorno, code per due chilometri, lavori tra Gello e lo svincolo Ponte della Est, siamo in direzione di Firenze. Code per un chilometro in A11, dopo un veicolo in avaria tra Prato Ovest e Pistoia, la direzione è quella per Pisa. In chiusura per le statali, rallentamenti sull'Aurelia, lavori a un chilometro prima dell'incrocio Sarzana, statale 446 di Fos di Novo. È tutto grazie a Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, Comune di Firenze. Buon viaggio, a più tardi. Grazie a tutti.